www.feyyaz.tv Donde stuviste toda la noce? Ia... Ia... Con chi stava? Con testa! Parla con tua figlia! Adesso voglio sapere dove è stata! Chi si crede di essere? Donde hai stato, Ia? Una signorita non può comportarsi così! È una vergogna per la famiglia! Non ti dà cuenta? Estuviste con questa joven? Papà, dejami explicarti! Te crei su una mujerzuela della caia e scappandoti da noce a incontrare un uombre! Papà! Donde stava Giannino? Non mi ha se perder la pazienza! Piense che se viene a cubrirla, eh? Sabes' il peligro e la vergüenza a che l'has espuesta! Tuo trabajo era cuidarla! Habla! Rosita, te lo ruego! Di nos la verdad! Che sta succedendo? Ha estrazionato nuestra confianza! Tu has criado a Giannino! Tu eres parte de esta famiglia! No papà! Io no he hecho nada! Francesco! Por favor, calmati! Esattamente! Tuo trabajo era cuidar mi hija y no lo hiciste! Tu puedes ir a esta casa! Mamá! Papá! Francesco! Va hablar entonces! ¿Qué ha hecho esta noche? Toda la verdad! No hay nada! No hay nada! No hay nada! No hay nada! inspector! Si te va ahora mismo de esta casa! Francesco! Por favor! ¿A qué sirve Una empleata si no cumple la unica trea che tiene che essere